Uomini di Paoli in vantaggio proprio quando entriamo in cronaca diretta con la rete di Gianni De Vivo che davvero opportunista realizza il gol dell'1-0 contro il New Real Patatrack la partita era stata fin qui molto equilibrata, siamo al settimo minuto ci erano state un paio di occasioni per parte non concretizzate fino al gol di pochi attimi fa realizzato da De Vivo adesso i Patatrack sbagliano ancora in fase di impostazione Tescione può andare via in velocità, fermato il calcio d'angolo ha rimediato anche un calcione, il pocio degli Uomini di Paoli che oggi devono fare a meno di Babigno Sessione qui a rimpallo con Fiorillo che rischiava di segnare col fondo schiena adesso è Sorrentino che allarga sulla trafascia per un compagno fermato però dall'ottimo intervento di Vitiello attenzione 2 contro 1, Vitiello di punta il miracolo in calcio d'angolo del portiere dei Patatrack a mano aperta direi che Liotti, fratello di Raffaele che a mano aperta ha deviato in calcio d'angolo dalla bandierina a Fiorillo mette dentro, ancora smanaccia Liotti poi non esce, c'è il contro piede dei Patatrack attenzione addirittura 4 contro 1 la vecchia, la vecchia, no, sbaglia tutto in questo caso Gianfranco la vecchia c'erano ben 3 compagni a fianco pronti a far gol partita davvero apertissima qualunque risultato con i Patatrack che adesso attaccano buono il cambio di gioco per Sorrentino se la porta sul sinistro, fermato da Jack De Vita che gli ringhia sulle caviglie buono il movimento di Liotti forse c'è un fallo, un rimpallo ancora i Patatrack mettono sotto pressione gli uomini di Paoli la vecchia in zona rimessa laterale gioca dietro, la falla viene poi rimpallata c'è una rimessa laterale in zona d'attacco per i Patatrack seguiamo quest'ultima azione prima di chiudere il collegamento Sorrentino che gira per la vecchia attenzione solo la vecchia colpisce di sinistro poi Prodomo è riattivo deviare con i pugni in calcio d'angolo dalla bandierina ultima azione la vecchia la palla attraversa tutta l'area di rigore per spegnersi sul fondo 1-0 uomini di Paoli chiudiamo qui il nostro collegamento grazie grazie grazie